Il vittoriese Emanuele Gulino ha debuttato come attore protagonista in una puntata del noto programma televisivo di Mediaset Forum. Gulino ha iniziato la sua carriera da giovanissimo esordendo come barzellettiere ad un festival canoro che vedeva in giuria anche Rita Pavone e Teddy Reno. Esperienza che ha fatto maturare in Gulino sempre più la voglia di scommettersi, giocarsi in prima persona e di crescere professionalmente, facendosi onore, lavorando duramente e con impegno. Alla prima esibizione ne sarebbero seguite tante altre, nelle piazze della provincia di Ragusa e Siracusa come barzellettiere e imitatori di personaggi comici come Carlo Verdone, Erci Polla di Enzo Salvi, Figaro e Picone. Si è esibito anche a Milano, Brindisi e in altre città italiane. Queste esibizioni gli hanno portato nel 2010 il riconoscimento provinciale per gli artisti blei. Poi nel 2011 ha partecipato al festival del cabaret siciliano, duettando con uno dei suoi idoli, Massimo Bagnato. Il suo grandissimo sogno è quello di approdare nei teatri di tutta Italia ed in tv, dove Giavo ha lavorato come comparsa alla serie Il Paradiso delle Signore 2. Il giorno del grande debutto, finalmente, è arrivato ieri, in cui Gulino è stato ospite del famoso programma forum in onda su Canale 5, come attore principale e protagonista di una causa tra una coppia di fatto. Il nostro giovane attore è stato chiamato in causa dal compagno tradito, che adesso gli reclama l'abitazione in comune. Un'interpretazione magistrale, recitata con precisione e professionalità, senza indugi e tententamenti, con naturalezza e disinvoltura che la digono lunga sul carattere deciso e sulle innate capacità interpretative di calarsi nel personaggio. Un primo grande successo, dunque, in tv, che gli aprirà una lunga strada ricca di ruoli importanti e molte soddisfazioni. Grazie. Grazie. Grazie.